Ciao Giovanni, ciao bambini. Un saluto da Joe e da mamma Moomin che è qui con noi ospite per celebrare quella che è un po' la giornata dedicata a tutte le mamme e le nonne del mondo e persino a quelli di Radio Moomin. Esatto, anche se noi la mamma la preseggiamo tutto l'anno, non solo oggi o insomma in questi giorni, naturalmente. Però siamo a tema con la giornata perché la notizia dal mondo che ho registrato per voi è un'intervista a Rossella Föller. Ma dai, con questo musone cosa fai? Sta ascoltando perché non sente bene. Allora, ripeto, questo libro di cui parleremo raccoglie le giornate da celebrare nel mondo, anche in Italia, ma in tutto il mondo. La giornata della mamma non c'è, è una cosa che riguarda solo noi qui, però noi la celebriamo, va bene? E allora parleremo con Rossella Föller, soprattutto di una giornata che ci è piaciuta tantissimo, che è la giornata mondiale delle api, che sarà il 20 maggio. Ci sono anche delle api mamme? Caspita, la regina è la mamma di tutte le api. Tu cosa fai? Io faccio, guardo, le canzoni sulla mamma e poi qui mamma bambini mi diceva. Mamma bambino. Magari potrei anche cimentarmi con viva la mamma di Ben Nato. Addirittura, va bene, va bene. La ascoltiamo. Ciao, ciao Giovanni. Ciao a tutti. Ciao bambini.